Nessun patto del Nazareno, nessun inciucio, richiesta di appoggio esterno o promesse di alcun tipo, ma soprattutto nessuno sgarbo istituzionale. È molto serena ma ben chiara la risposta della diretta interessata a riguardo della scintilla che ha dato fuoco alle polveri della Lega di Fano. Marta Ruggeri liquida velocemente la vicenda alla base dello scontro tra opposizioni in atto, mentre invece affonda il coltello sui retroscena delle manovre pre-ballottaggio per accaparrarsi i voti dei pentastellati. C'è stata una cena e un incontro col sindaco Seri, non è stato assolutamente un incontro carbonaro, bensì un momento di condivisione di persone che si occupano di politica da tanto tempo. In effetti il sindaco Seri era da diversi anni che ci diceva che avrebbe avuto piacere di scambiare delle idee con noi sulla città e quindi dopo la pausa dovuta al riposo post-elettorale c'è stata questa occasione. Si è dimostrato un momento piacevole dal punto di vista politico poco costruttivo, sinceramente, però comunque è stata una serata interessante. Ma è particolare questo atteggiamento da parte della Lega, io vorrei ricordare solo che al ballottaggio, poco prima del ballottaggio, il centrodestra, Lega in testa, sono venuti proprio a casa mia ad offrirmi la poltrona da vicesindaco e la metà degli assessorati. Quindi la risposta è stata chiara già all'epoca perché hanno ricevuto un no secco e mi sorprende che loro che hanno avuto questa esperienza con noi e quindi hanno verificato la nostra serietà, abbiano costruito tutta questa gran polemica per un piatto di lenticchie, insomma, come se ci fossimo voluti vendere per un piatto di lenticchie. Ecco, non è così ed invito gli amici della Lega a occuparsi di temi un pochettino più seri, evitare le polemiche da pollaio. Vi dimetterete dalle vostre vicepresidenze? Se Sir Filippi ci tiene tanto, visto che nella mia commissione quella bilancia ad avere la vicepresidenza, se mi chiama e me lo chiede in modo gentile, io sono disponibile a lasciargliele.